Pre-partita di dinamica generale Mantova-Palacanesto-Trieste con Lorenzo Giergati. Lorenzo, cerchiamo di ripercorrere con te la settimana piuttosto travagliata della dinamica, con più dense di comunicati che di partite, praticamente si gioca o non si gioca, alla fine è rinviata la partita contro la Fortitudo mercoledì prossimo. Come l'ha vissuta la squadra questa settimana e come vi state preparando, come sta vivendo questi giorni di approccio, diciamo così, la prima partita contro Trieste? Da tanto ci stiamo allenando, perché siamo qua, ci sono i dati il 19 agosto e ora siamo quasi al 10 ottobre, abbiamo fatto una partita e abbiamo tanta voglia. Diciamo che ha avuto qualche problemino, tra i fortunati e gli infortunati, è ancora americano, quindi arriviamo non ancora al 100% sicuramente, perché stiamo ancora cercando la chimica, cercando ancora una struttura completa di squadra, quindi non sarà facile, però la voglia è tanta e soprattutto abbiamo voglia di fare finalmente una partita vera. Quindi arriveremo carichi, non vediamo l'ora di giocare davanti al nostro pubblico, è la prima partita il campionato, perché è l'esordio e quindi si inizia un nuovo anno, che è importante per tutti noi e per la società, quindi aspettiamo tutti il 10 ottobre. Trieste è cambiato abbastanza rispetto alla scorsa stagione, ha perso dei giocatori importanti come Carra, che si è ritirato, lui che è stato tra i più ambiti in questa sessione di mercato, e Tunut che è passato a Venezia, nonostante che arrivi di giovani interessanti, come ad esempio Parks, oppure Zahariev, che ha fatto molto bene il campionato bulgaro, lo stesso Landi, che abbiamo visto l'anno scorso qui a Mantua, credi che si sia innebolita rispetto all'anno scorso Trieste? Ma però ha tenuto lo stesso allenatore, perché la massona è la garanzia, quindi secondo me ha proprio meno la voglia e la fame che aveva l'anno scorso, perché comunque Trieste ha sempre fatto una squadra alla scoperta, una squadra che non si sapeva mai e poi ha sempre fatto bene. L'anno scorso è stata una grassissima sorpresa la squadra, e secondo me anche quest'anno potrà fare molto bene, perché è una squadra concreta, quindi sarà molto difficile, soprattutto dopo la prima partita in cui ha fatto 39 punti, ha preso 30 punti in casa, non è facile, quindi saranno ancora più, diciamo, tra virgolette avvelenati, e soprattutto su me sono una buona squadra, quindi dovremmo stare attenti, però noi in casa non possiamo perdere. Ecco, Alberto Serravalli, l'assista in coach, parlando speaker role, la trasmissione radiofonica sugli Stinks, ha parlato, riferendosi alla partita contro Verona, di come Trieste si è stata un po' penalizzata in certi episodi, si è stata un po' sfortunata su tiri che se fossero entrati e avrebbero riaperto la partita. Siete d'accordo anche te che la Trieste vista contro Verona non sarà comunque quella che scenderà in campo contro di voi sabato? Guarda, io dico, la partita non mi vista ancora, perché non abbiamo ancora ben predato, perché quando perdi 30, secondo me non sono tanti dei tiri che entrano o no, è che proprio la partita l'hai persa, perché sei stato nettamente in quella partita più scarso degli altri. Quindi a me le partite succedono, se le partite fai sempre canestro e vinci 30, a partita fai mai canestro e perdi 30, però sicuramente la verità sta sempre nel momento, quindi bisogna sempre stare concentrati e questo secondo me cambia le squadre, cambia i campionati, una squadra che cerca sempre di fare proprio gioco, cerca sempre di essere concentrata e questo non dipende dalle percentuali di tiro, ma dipende dalla concentrazione e dalla voglia di vincere. Quindi noi dobbiamo essere sempre così e sapere che la squadra che andiamo a incontrare sarà una buona squadra. Quindi la dinamica, se non altro, parte avvantaggiata dal punto di vista del roster, dal punto di vista della qualità, della profondità del roster. Cosa serve per confermare queste previsioni e cosa serve per fermare la carica, se non altro, che avrà Trieste di rivalsa, il spirito di rivalsa dopo la partita contro Verona? Sulla carta ci sono squadre più forti, meno forti, ho giocato in squadre diverse. Noi sulla carta dobbiamo essere migliori di loro, però tutto quello che cambia è la maiga, ma come trovi dentro una squadra, perché tutti i nomi sono non iscritti, però bisogna giocare bene insieme, bisogna trovare una chimica, cosa che è difficile, che la trovi solo col tempo, però questa è una squadra costruita bene, è una squadra che può fare bene, è una squadra che sta molto bene in campo, quindi è solo la prima partita, cerchiamo di stare sereni, con la mente sgombra, ma cercare solo un obiettivo che vince.